Ben ritrovati amici di Yoke Watch Italia, siamo qua con il nostro Dream Model e abbiamo ancora il nostro sacchettino pieno di medaglie da completare dopodiché vi ricordo che abbiamo due box di medaglie giapponesi che io non ho idea di cosa ci sia dentro ma dovrebbero essere apposta per il Dream Model quindi ovviamente iscrizione al canale e pollice su per cominciare e scrivetemi subito nei commenti che medaglie vorreste trovare voi o che medaglie troverò io vediamo un po', iniziamo con la prima, ne facciamo tre vi ricordo che abbiamo trovato per ora un sacco di medaglie verdi un paio rosse e una nera vediamo un po' forse anche un paio blu allora, verde la prima sembra tipo Danz o Banz ma non lo so super grosso? super cattivo? non lo so, non lo so noi la proviamo vediamo cosa ci dice scrivetemi il nome se lo capite datemi una mano vi prego perché sennò io non ce la faccio vai è troppo rilassante sta musica cos'è che sta dicendo? qua come sta? cos'è napoletano? qua come sta? non lo so, sentiamo ancora? qua come sta? non lo so, non lo so ho sempre delle difficoltà ho sempre delle enormi difficoltà vabbè intanto non ce l'avevamo non ce l'avevamo peschiamo la seconda la seconda la seconda che bella che bella è blu ed è un robonian un po' più cicciottello credo che sta facendo boh non lo so sta lanciando qualcosa non lo so cosa sta facendo questo robonian ah no non è più cicciottello sembra solo proviamocela blu vai prima volta che la sentiamo questa prima volta come lo dice bello vai robonian finalmente abbiamo trovato qualcuno che conosciamo non vedevo l'ora terza medaglia wow wow è un'altra che conosciamo è il nostro chi è questo? dai lo conosciamo tutti quanti non è il K ma ci sei vicino vai vai proviamolo sentiamo subito se si chiama nello stesso modo c bravo тировas il serpiente il San le ch il h l'ha detto se avete sentito bene l'ha detto si chiama uguale risentite più o meno più o meno va bene dai ragazzi abbiamo trovato due che conosciamo e una che potrebbe essere che potrebbe essere quindi ovviamente per oggi è finito perchè ne facciamo sempre tre pollice su e iscrizione al canale e vi ricordo che stiamo preparando lo speciale per i mille iscritti e dopodichè potremmo ricominciare i gameplay dei giochi che ancora non sono usciti in Italia potremmo partire subito con Bolling Spirits e Flashy Souls a.k.a. Polpanime Spiritossi scrivetemi nei commenti quale di voi vorreste che giocassi e al prossimo video ciao ciao